Qua, iniziamo il giocamento! Siamo? Allungo! Cambio! Spagno! Allungo! E avanti! Allungo! Allungo! Vado giù, allungo, 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 allungo e torno giù, e di nuovo vado giù, allungo, allungo, forza forza, e torno su, bravissime, su ginocchio, su, po, 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 vado sulle punte solleva il tallone porta, porta di nuovo il ginocchio su le punte andiamo e stop guardate che stiamo in nostro cipollino un minuto jumping jack e pronte? pronte? via via comando il primo giro con calma respirate con calma forza, forza ragazzi volta 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 ultimi 10 stop brava camminata magna terra vado giù cammino e torno su ok? sempre un minuto vamos condizioni forte cammino e torno forza ragazze forza non mollate ultimi 10 secondi e stop brava un minuto schippanti vamos e attuando il primo giro con calma altrimenti non serve a nulla stiamo ancora rispandando il nostro corpo con calma non serve a nulla la la, 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 la vi par Gli ultimi dieci secondi. Sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Bravi ragazzi, adesso dobbiamo ripetere tutto dall'inizio un'altra volta, ok? Adesso iniziamo ad aumentare un pochino l'intensità. Pronte? Via! E tanto, cantate! Non preoccupate! Dieci! E stop! Bravi ragazzi! Io e Facebook non nemmo molto d'accordo in questi due giorni, eh! Adesso, sempre un minuto, camminata a mano a terra, ok? Bravo! Mentre cambio musica, non è possibile! Continuate, ragazze! Continuate, continuate! Ancora dieci secondi! Forza, forza! Stop! Ok! Schipanti! Via! Non si sta più che multi che usate! Faremo una diretta senza musica, ragazzi, così non ci blocchiano più! Quanta patenza! Fateci di aprire le palestre! Continuate, anche se si blocca! Continuo, continuo! Su queste ginocchia! Sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno, stop! Adesso, di nuovo ricominciamo il circuito! Io intanto mando avanti qualche musichetta che non vi piace a te tu! Pronte? Da trapo! Forza! Aumentiamo l'intensità! Forza, forza! Forza, forza! Forza, forza! Forza, forza! Ancora via di venti secondi! Nove, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno, stop! Un minuto camminata! Pronti? Via! Vamos! No, metto l'ora pausini! Vediamo se ci blocca anche così! Forza, forza, forza ragazzi! Quattro, 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 tre, due, uno, stop! Tutto ok? Sì, sì, ci siamo, ci siamo! Skip avanti! Pronte? Vamos, via! Su, su, su ragazze! Stiamo iniziando a scaldarci! Forza! Forza! Forza, forza! Tutto fa bene! Ma se torniamo in palestra farà ancora meglio! Forza, forza! 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 Ancora quindici secondi! E abbiamo finito il primo circuito! Ne abbiamo ancora un altro! Non scappate! Sette, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno, stop! Bravo ragazzi! Ora, prepariamoci al secondo circuito! Squat touch più front jack! Ce lo ricordiamo? Squat touch e front jack! Ok ragazze? Sempre un minuto per esercizio! Questi li ripetiamo due volte! E poi iniziamo con il circuito! 40 secondi più 10! Ok? Iniziamo a prepararci! Siete pronte? Via! La 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 la! La la la! La 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 la! La 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 la! La 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 la! You're breaking me la 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 la! La 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 la! I'm just right dancing right to the river! The real value baby! You're breaking my heart! You know that I can't get my heart! You're right from the start! You're playing with my heart! I'm singing la 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 la! Yesi! Stop! Bravo! Bruzzelle! Pronte? Front jack! Niente! I miei cappari non stanno! Siamo pronti? Via! Quindi teniamoci! Via! 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 dieci e ragazzi ancora una volta squat touch e front jack ok, vamos, ci siamo, via, un minuto e chiudo forza, forza ragazze 15 secondi 10 stop front jack pronte via ok, l'ultimo circuito e vediamo e vediamo ultimi 15 10 10 9 4 7 6 6 bravi ragazze tappetino scusate se devo tappetino iniziamo con la parte degli addominali quindi quindi 40 secondi per esercizio più 10 secondi di recupero ok ci siamo? allora, primo sit up che ormai lo conoscete benissimo e leggo su secondo muro ora posso alzare gambe a tavolino manine davanti sulla gamba sollevo capo e spalle e spingo ok ok terzo sollevo le gambe e prendo le camiglie ok pronte? giù sit up via forza 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 ragazze aiutateli con l'addominale cercate di usare meno la spinta nemmeno le braccia stop stop ragazzi 10 secondi muro via so che tremate basta niente spingiamo spingiamo forza, forza ragazzi spingo, spingo spingo con le mani e le gambe fanno forza al contrario stop bravissima recuperiamo e poi sollevo le gambe e prendo la camiglia ok? pronte? via puan spingiamo si puan e stop brava ragazzi torno su ricominciamo da crappo eh sit up prepariamoci uh uh vamos uno di dieci voglio tornare in palestra riaprite le palestre stop riposo muro prepariamoci non leggo chi ha scritto dopo guarderò vamos spingo 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 tremate normale respirate respirate so che fa male fa niente stop bravi ragazzi dentro earth so che brava ragazzi è l'ultimo cioè non è l'ultimo ma è l'ultimo ricominciamo da T-Tap ho anche la musica bassa ragazzi questa non è possibile prendimi la palestra andiamo non si fa T-Tap fisica con la musica bassa i ultimi 10 secondi Anche meno Stop Brava ragazzi Muro Mi raccomando con le mani spingo Ma le gambe trattengono la spinta Ok? Vamos Sollevo capi e spalle e spingo Tremiamo Stop Ragazzi è l'ultimo Gambe rivolte verso il soffitto Andunghiamole Prendiamo la caviglia Via Prendiamo la caviglia Ma la faccia Prendiamo la caviglia brava ragazzi adesso ripassiamo ciao zia ripassiamo alle gambe perché ce l'ha elastico allora anche qui tre esercizi squat sperando non ci blocchi facebook squat a fondo e a fondo sollevo la gamba ok sempre 40 secondi 1 e 10 di recupero ok ragazzi dai l'ultimo esercizio forza non vi ho ammassato tanto oggi per colpa di facebook abbiamo fatto una mezza pausa pronte squat via via vamos ok Grazie a tutti. Come sono male. E stop! 10 secondi di recupero. Affondi, solo affondo classico, destra e sinistra. Pronte? Via! Pange dentro. Non si fa! Stop! Adesso, 20 secondi solo con la gamba a destra, 20 secondi solo con la gamba a sinistra. Ok? Siete pronte? Via! Affondo e... Cambio! L'ultimo! Sopra ragazzi, stop! Grazie! Ricominciamo! Squat! Ok? Pronte! Via! La 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 la... Stop! Affondi! Siamo pronti? Affogli in avanti alternato Via! L'ultimo Stop! Affondo Sollevo la gamba Vestissimo con la destra Vestissimo con la sinistra Pronti? Dai ragazza, dai, dai Via! Cambio! Sentiamo le gambe fino a su Perciò l'equilibrio L'ultimo Stop! Brava ragazze! L'ultimo giro che abbiamo finito, giuro Stai pronti? Squat! Andiamo! Giù! Forza, forza! E l'ultimo! Weedy da, forza! E non we're? Parararo! Fa-ra-ra! Fa-ra-ra! Fa-ra-ra-ra! Fa-ra-ra-ra-ra! Fa-ra-ra-ra! Fa-ra-ra-ra! Fa-ra-ra-ra-ra-ra! Ancora due, l'ultimo, stop, vai, a fondo, pronte, via. L'ultimo, stop, vai, a fondo, pronte, via. E sollevo, pronte, via, prima solo con una gamba. Cambio. L'ultimo, stop, ragazze, fatevi un applausone. Ok, la faccio io. Fragi, andiamo giù, rondiamo. Allargo un pochino le gambe. Prendiamo la gamba a sinistra. Scusate, destra. E la sinistra. Centrale. E torno su piano piano. Ruoto. Ruggiamo, lottiamo. Ruoto. Cambio. Andiamo sulle punte. ragazzi non su voi ma io sto sudatissima sciogliamo scioglo, scioglo, scioglo bravissime ragazzi spiro e ultimo stop grazie mille